Sono qui per presentarvi il programma estivo del Coro della Presorana, che è una formazione di 30 persone della Conca della Presorana e con all'attivo adesso un paio di CD, sono 10 anni che cantiamo e 72 canti in repertorio. Il programma prevede a giugno, un mercoledì, in mercoledì 2, che è la festa della Repubblica, un concerto ad Ardesio presso il Teatro Oratorio organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune. Domenica 6 giugno c'è un concerto nella frazione di Rusio, nella festa locale della Contrada, dedicato a una raccolta fondi per Renato Viginoni. Sabato 12 c'è un altro concerto nella chiesa parrocchiale di Rovetta alle ore 21, è un'erivazione musicale sempre per raccogliere fondi in favore di Renato Viginoni. Domenica 20 c'è la festa del CAI di Castione alla Baita Casinelli e saremo presenti come coro nell'occasione della Santa Messa alle 10.30. Si sono poi 4 concerti a luglio, in particolare sabato 10 e domenica 11, c'è il concerto a Schilpario alle 9 presso la chiesa e un'occasione molto particolare ormai che richiama parecchi cori da tutta la provincia, anche dal brefiano, che si chiama Dove senti cantare fermati, che è la rassegna corale presso la Madonnina dei Campelli di Schilpario. In occasione anche qui della Santa Messa alle 10.30 i cori cantano durante la Messa e si esibiscono poi ai numerosi turisti che vengono di solito a questa manifestazione. Poi c'è il giovedì 22 il concerto presso la chiesa parrocchiale di Dorga della Turismo Presolana, il sabato 24 un concerto ad onore alle ore 21 e infine ci sono 3 occasioni per ora, ad agosto, il lunedì 2 agosto un concerto a San Lorenzo, operazione di Rovetta alle 21. Mercoledì 11 invece tentiamo un esperimento un po' nuovo, abbiamo pensato di organizzare un concerto un po' particolare creando un'atmosfera, la sera alle ore 22, quindi alle 10 di sera, presso la chiesetta di San Bernardino teniamo un concerto nel bosco, sarà un po' penso una cosa un po' nuova che anche noi facciamo per la prima volta. Infine venerdì 13 c'è un concerto a Bergamo alle 21 alle 9 e un quarto organizzato da LUSCI di Bergamo, associazione del corale italiana alle ore 9 e un quarto. Tutte queste informazioni che spero ricordiate sono comunque reperibili sul nostro sito www.corolapresorana.it